c'è ragà bentornati sul mio canale youtube concludiamo questa tornata di review oggi andando a parlare di fernandinho guagliarella royce e di insigne giocatori appunto sempre la promo dei foot capitani che mi hanno molto sorpreso e devo dire chi di più chi di meno quindi mettetevi comodi e gustatevi queste clip partiamo proprio dal centrocampista del manchester city che oltre ad essere ottimo in fase di recupero palla devo dire che anche in fase di impostazione guardate qui con la sua agilità il suo ottimo body type si fa sentire molto molto bene qui invece iniziamo a guardare royce che palla al piede nello stretto non è proprio un fulmine guardate qui come fernandinho precisissimo su questa linea di passaggio recupera il pallone in automatico qui con il raddoppio si dimostra super aggressivo in entrambe le occasioni ancora una volta preciso anche nel recuperare il pallone con il contrasto in piedi passiamo invece all'ollo insigne che ovviamente non può che presentarsi con questo tiro a giro marchio di fabbrica per lui speed boost da esterno veramente molto 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 valido palla al piede anche nei micromovimenti è super preciso guardate qui come sfruttando queste accelerazioni e poi queste pirouette riesce a costruirsi la sua specialità della casa che però stavolta va sulla sulla traversa qua ancora ottimo lo speed boost poi la palla per royce che stavolta si gira un po meglio sfruttando il tiro cancellato che aiuta un po come come meccanica e qua iarella finalizza bene e a proposito dell'attaccante della samp guardate che vai dire a giro che c'ha sfruttando anche il suo tratto del finesse speed boost notevole piede debole anche qua devo dire si si fa sentire la quarta di skill è molto solido quando c'è da finalizzare praticamente non mi ha sbagliato mai gol che sembrano facili ma che altri attaccanti magari non non capitalizzano anche questo qui non era non era banale qua anche una bella skill con l2 più finta di tiro classica dei quattro skill per liberare il destro guardate ancora qua una volta ottimo lo speed boost se ne va due volte agli avversari poi io sbaglio il time ma aveva costruito un'ottima azione royce ha un altro tiro della madonna ottimo il tiro a giro tiro da fuori che in generale guardate qui è incredibile lo speed boost pure è abbastanza notevole devo dire io l'ho preferito infatti da esterno piuttosto che da punta visto che non è proprio agilissimo visto il body type guardate qua come la palla finisce per scappargli un po dai piedi arriva ancora una volta al limite dell'aria tira una mina di destro ma guardate qua il gol che arriva a breve palla lunga lanciato in profondità un controllo di sinistro al volo bam mina incredibile veramente c'è un tiro da fuori spettacolare qua abbastanza agile dentro l'aria con piede debole la finalizza la finalizza abbastanza bene però non ha proprio una massima finalizzazione perché vedete qua questa è una giocata abbastanza facile e la sbagliata qui buono anche lo speed boost di fernandinho buona tutta la giocata con quagliarella che finalizza devo dire un'azione costruita bene da tutti quanti allora rega dopo aver provato questi quattro campioncini partiamo da insigne con il recappino allora che dire sicuramente un ottimo giocatore per quanto riguarda la seriata esterno 4 4 brevilinio quindi ottimo speed boost si sente tantissimo l'accelerazione la velocità scatto palla al piede quando fate micro movimenti tanta roba devo dire sia l'agilità l'equilibrio si sentono tutti quanti quello 85 di reattività è anche un po fake sembra che abbia sembra che abbia di più ottimo controllo palla ottimo dribbling anche molto molto buoni i passaggi onestamente non credo sia troppo utilizzabile da punta nonostante si muova bene per via della finalizzazione della potenza tiro come potete vedere mi ha fatto un gol e un assist ovviamente il gol a giro neanche a dirlo infatti il tiro di precisione ce l'ha anche come traits e si sente quindi diciamo che overall alla fine considerato anche il prezzo gli do un bell'otto pieno stile d'intesa come avete visto gli ho dato falco gli si può dare pure cannoniere insomma dipende anche un po da quello che gli volete dare non è che gli cambia gli cambia la vita quindi tutto sommato promosso il buon lorenzino che dall'anno prossimo andrà al toronto e sparirà dai radar secondo giocatore invece è marco royce 4 4 per lui alto normale un metro 80 9 partite 4 collo 4 assist allora c'è da dire su questo royce che come al solito il metro e 80 di altezza misto a 80 di forza più body type un po così diciamo che non sono proprio il massimo della vita in termini micromovimenti io l'ho giocato sia da seconda punta che da esterno e da esterno devo dire che quella accelerazione quella velocità scatto si sentono tanto perché ha un ottimo speed boost mentre in aria di rigore invece per via della sua limitata mobilità non è così efficace quindi ovvero sconsiglio da seconda punta e ve lo consiglio tanto da esterno o al limite da cc però cc e stesso motivo non avendo quella capacità di prendere tempi di gioco semplicemente spostando la palla con la levetta non è che mi faccia proprio esaltare quindi si sente anche il tiro a giro perché anche lui il tiro di precisione avete visto fare veramente dei bei tiri si sente tanto anche il 90 di tiro dalla distanza il 93 di potenza tiro fa dei bei gol questo va gli va riconosciuto però non fatevi buttare fumo negli occhi da quel 91 di agilità 90 equilibrio 94 reattività perché sapete bene che quei parametri poi devono dipendere anche da quella che la fisicità del giocatore e questa fisicità di royce è sempre la solita poi comunque il prezzo non è proprio dei più abbordabili perché mezzo milione considerando che di bundesliga è tutta una serie di fattori non è che diciamo lo aiutano gli darei un 7 e mezzo va di stima 7 più 7 e mezzo per royce però non è non è assolutamente un cattivo giocatore fabio guagliarella invece secondo me la sorpresa di questo video perché lo pagate praticamente al prezzo di un fodder quindi una carta 92 che buttate nelle sbc stile lewandowski è un metro e 80 4 4 9 partite 9 gol 4 assist allora è vero che c'ha un body type di merda perché un metro e 80 per 79 kg quindi classico body type bello pesante e poi c'ha pure 84 di forza quindi nello stretto non è proprio sua agilità però ha un ottimo speed boost quando c'è da finalizzare finalizza bene anche lui ha il tiro di precisione ha dei buoni passaggi non è neanche il più tronco dei tronchi cioè per esempio rispetto a un blaovic è più agile rispetto a tanti giocatori per una serie a è più agile quindi secondo me se lo prendete consapevoli del fatto che è esattamente un giocatore che voi state andando a pagare 90.000 crediti e non è che vi aspettate grandi cose avete le serie a siete fanboy vi serve un giocatore italiano onestamente questo è il solo fa cioè quando c'è da mollare la palla in porta gliela molla quindi non mi è dispiaciuto diciamo che gli diamo un sette più dai anche a lui per perché comunque ci sono alternative in serie a che se a vi siete sbloccate nel corso della stagione ovviamente non vi fanno preferire questo quagliarella però fabiolino alla venna sua venerante età di 39 primavere continua ad essere un giocatore discreto anche su su foot ovviamente stile intesa motore ma veniamo al giocatore clou di questo video che è fernandigno fernandigno c'ha 3 skill e 4 di vede debole quindi diciamo il classico giocatore più difensivo che mezzata normale alto di work rate ma devo dire che supporta la manovra offensiva discretamente un metro e 79 9 partite due assist ovviamente nessun gol allora c'è da dire innanzitutto che questa è una sbc quindi il suo costo si aggira intorno ai 400 mila crediti c'è da dire che tra due settimane escono i tots e quindi questa carta rischia di finire in fondo alle gerarchie proprio appena sbloccata però c'è un grosso però se voi sto fernandigno ve lo riuscite a sbloccare magari con carte che avete nel club e non lo so ci buttate 100 mila crediti è comunque un 92 che alla peggio poi potete buttare anche in una sbc ed è un 92 dall'ottimo rendimento perché quell'agilità quell'equilibrio e quella reattività si sentono tantissimo con l l2 questo è super agile si attacca molto bene all'uomo si attacca per esempio meglio di allan che magari è più tecnico però c'ha quel classico body type un po goffo che lo limita nei movimenti quindi alle volte non non rimane vicinissimo agli avversari c'ha pure 97 di aggressività 88 di forza ha dei passaggi della madonna è vero che a schilla non schilla niente però con il 4 di pede debole bene o male riuscite a dare bene il pallone quindi su fernandigno io gli do un bell'otto e mezzo come come giocatore c'è questa incognita ripeto del periodo che insomma andiamo a vivere però per esempio anche meglio di un fofana potm per me in termini di agilità è meglio pure di un chiameni anche qualità prezzo è anche meglio di un gravenberg in termini di ibridabilità quindi è un bel jolly che si può spendere a centrocampo valutate bene se lo volete sbloccare se ne avete realmente la necessità altrimenti altrimenti vi ripeto tra due settimane saremo sommersi di alternative tra tots community tots premier giocatori di questo genere ne vedremo a bizzeffe con tutte stazza 90 però sto fernandigno qua preso così stile intesa ombra mi sento di dire che è veramente un ottimo giocatore rega anche per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori prossimamente sul canale vedrete un modulino per contrastare il 352 che so che vi piacerà in descrizione vi ricordo tutti i link in particolare la piattaforma viola dove sono live ogni giorno io vi auguro una buona giornata un saluto da liberoschi ciao ciao